Giulia Dell'Ellis Giulia Dell'Ellis piange per Andrea Damante, chissà che sta facendo fuori di qui prime lacrime anche per Giulia Dell'Ellis che al grande fratello Vip comincia a sentire la mancanza di Andrea Damante. In una sera, mentre è sul divano, parla con il comico di Colorado, Gianluca Impastato, e con Ignazio Moser. Il suo sfogo finisce in un amaro pianto. I dubbi di Giulia Dell'Ellis. Giulia Dell'Ellis traccia un'ipotesi di quello che potrebbe succedere fuori dalla casa. Mi sono messa a pensare a quello che sto passando ed effettivamente lui si può fare dei pensieri, questa è la prova del 9. Io che ne so, questo sta tutte le sere con 20.000 ragazze, ne vedrà 150.000 in due e tre mesi. Lo può fare sempre, però parliamoci chiaro, tre mesi so tanti. Andrea Damante è troppo furbo. Andrea è troppo furbo, non farebbe nulla in questo momento che è esposto. Se mai dovesse tradirmi, lo farebbe in modo che io non lo vorrei mai a sapere. Non lo faccio così povero. La mia paura più grande non è tanto il tradimento, ma il fatto di sapere che non sono più indispensabile. Giulia Dell'Ellis si sopravvaluta, si lascia andare ad una possibile sensazione da donna e i due presenti, increduli, provano a calmarla. Io non vorrei avere una sensazione di quelle che scianno tutte le donne. Magari si rende conto, sto pensiero che lui possa avere, non lo so, mi farebbe male pensare che non gli manco come lui manca a me. Il percorso di Giulia Dell'Ellis sta facendo discutere per le sue uscite, i suoi ragionamenti spesso poco bilanciati, come in particolare le uscite sui gay, la maggior parte dei figli dei gay diventa gay.